Nell'agosto del 2023 è uscito nelle sale italiane Demeter, il risveglio di Dracula, nuovo film di Andreo Vredal, regista norvegese di cui ho visto tutti i lavori tranne Mortal. Ha prodato su Prime nel 2021 che mi manca. L'avrei voluto vedere al cinema questo film incentrato sul vampiro per eccellenza che si basa sul settimo capitolo del romanzo Dracula di Bram Stoker, che fra l'altro ho letto durante il periodo del Covid, quindi ero anche curioso di vedere come sarebbe stato trasposto, non che mi interessi la fedeltà, lo sapete, apprezzo vedere come un regista faccia trionfare il suo pensiero autoriale, però è una delle poche volte in cui il romanzo originale lo avevo letto, quindi questa cosa mi faceva avere ancora più voglia di recuperarmi la pellicola in questione. Purtroppo me la sono persa in sala perché in quel periodo ero in vacanza all'Isola d'Elba, ma da qualche settimana è uscita su Prime Video, quindi l'ho vista e devo dire che dopo aver sentito dei pareri contrastanti, anche molto tiepidi, mi trovo in disaccordo perché Demeter il risveglio di Dracula l'ho trovato un buon film, anzi mi verrebbe voglia di vedere anche una continuazione nonostante sappia già come finirà la storia di Dracula. André Ovredal riesce a giocare con la presenza di questo mostro senza mostrarcelo sempre, eppure noi percepiamo la sua cattiveria, percepiamo la sua aura. Per chi non conoscesse la storia ci troviamo nel 1890 circa, questa nave che si chiama Demeter sta portando delle casse dalla Russia a Londra, a Whitby, solo che questo equipaggio resterà ucciso da Dracula che è nascosto dormiente in una delle casse e che durante la notte si sveglierà nutrendosi prima degli animali nella stiva e poi di tutte le persone. Però ci sono dei protagonisti che tenteranno di fronteggiarlo, fra cui il dottor Clemens, ma anche Anna, questa ragazza che viene trovata quasi in fin di vita nella stiva di cui il vampiro si stava nutriendo. La prima mezz'ora del film, quindi il prologo è costruito benissimo, ci affezioniamo ai personaggi, riusciamo a entrare subito in sintonia con ognuno di loro, per di più la regia di Andrè Ovredale è quadrata, è pulita, è comunque ben studiata, mi piace come ricrea anche scenograficamente l'ambientazione del periodo, mi piacciono le musiche, quindi si entra subito nel vivo della storia, percependo che c'è qualcosa di maligno, che c'è qualcosa di malevolo da dover sconfiggere. Poi, quando vediamo per la prima volta il vampiro che si risveglia, che quasi ricorda un alieno, ricorda un grigio per le sue fattezze, ho notato come si utilizzano bene gli effetti speciali, non andiamo incontro a quel digitale forzato, posticcio, che sempre più negli horror odierni viene utilizzato. La figura riesce a spaventare, a inquietare, poi è una questione molto soggettiva, ad esempio a me spaventano gli scenari in cui non vedi quel che hai ad un palmo di naso, perché ci troviamo su quest'imbarcazione, con il mare in tempesta, il grigiore continuo, questa oscurità incombente, quindi vedere il vampiro che si aggira per questo grigiore, per questa oscurità, quindi l'effetto vedo non vedo a me crea un effetto di tensione e di spavento. Poi certo, avessi visto The Meter in sala, l'effetto sarebbe stato sicuramente maggiore, invece sullo schermo di un PC con una qualità non al massimo di Prime Video, mi sono dovuto accontentare ed infatti me lo vorrò comprare in Blu-ray, non penso sia uscito in 4K per potermelo godere nella sua alta definizione, perché quando ci guardiamo un film in streaming, specialmente da PC, ma non solo, cioè in tantissimi momenti si proprio percepivano, si vedevano questi pixel, queste macchie nelle scene più oscure, nelle scene che dovrebbero essere più inquietanti, e mi saliva il nervoso. visto che paghiamo potrebbero caricare i film alla massima qualità, ma indipendentemente da questo, la parte centrale, quando il vampiro si fa vedere, quando il vampiro inizia ad uccidere, riesce a catturare, riesce ad appassionare, è un horror che abbraccia l'avventura. I protagonisti funzionano per poi arrivare ad un epilogo dove si cerca di uccidere il mostro in questione, imprigionandolo all'interno di questa nave mercantile russa, facendola affogare con Dracula al suo interno. Ce la faranno, non ce la faranno, ovviamente non ve lo rivelo, perché potreste non aver letto il romanzo, potreste non conoscere niente di Dracula, quindi il mio invito è quello di recuperarvi il film, che per certi aspetti riprende le pagine del cartaceo, per altri si discosta come giustamente può essere sensato fare. La sceneggiatura è di Zach Olkowicz che la riscrive dopo uno script iniziale di Brady F. Schutt che risale al 2003, perché, pensate un po', questo film lo vogliono realizzare da vent'anni e ancora non c'era stata la possibilità, si erano susseguiti vari registi, come possiamo leggere anche su internet, vari sceneggiatori. E poi, alla fine, fortunatamente è stato sviluppato da Andrea Ovredal, che ha una buona mano, che riesce a giocare con l'horror, che riesce a giocare anche con il gotico vampiresco. La filmografia di Andrea Ovredal solitamente mi ha sempre sorpreso, forse mi aveva deluso un po' di più con Scary Stories to Tell in the Dark, che non era brutto, ma guardando il trailer, giocando con il folklore, mi aspettavo una sua visione di piccoli brividi quasi meglio riuscita. L'ho visto al cinema, così come ho visto al cinema Autopsy, che invece mi piace e che rivedo sempre volentieri. Trollhunter ce l'ho in Blu-ray, quindi è un regista che ci sa fare. E in un panorama horror contemporaneo, molto spesso discutibile, dove si gioca al jumpscare facile, dove si gioca alla paura costruita in modo effimero, Demeteri il risveglio di Dracula, non dico che non mostri ogni tanto il vampiro che velocemente appare davanti l'inquadratura, però lo fa con cognizione di causa, lo fa con intelligenza, perché è un film che gioca con il non mostrare, ma al contempo con l'arrivo improvviso di questo mostro, e quindi è sensato anche il jumpscare, perché la pellicola non si basa solo su questo, ma c'è anche una costruzione di messa in scena diversa. Ci sono dei momenti in cui la fotografia, la luce, l'atmosfera, riesce a creare una sensazione di spavento, di inquietudine, e sono molto bravi anche gli attori, fra cui Corey Hawkins nei panni del dottor Clemens, che è il più arguto del gruppo, è quello che tenta in ogni modo di non farsi prendere dall'agitazione, dall'ansia, dal nervosismo. C'è anche il capitano della nave alla sua ultima attraversata, che come potrete capire si ricorderà per tutta la vita, sempre se sopravvivrà. Il film lo potete trovare su Prime Video, anche se spero che l'abbiate visto al cinema, e lo considero realmente buono. Dura un'ora e cinquantacinque, ma togliendo i titoli di coda, un'ora e quarantacinque, poco più. E ha saputo convincermi. Avevo letto delle recensioni talvolta positive, altre volte più neutre, ed invece per me questo è uno dei migliori lavori di Ovredal assieme a Autopsy. Come vi ho detto devo recuperare Mortal, ma avendo visto che è su Prime lo recupererò molto volentieri. Non sapevo della sua esistenza. È distribuito in Italia dalla Leone Film Group, prodotto dalla Dreamworks, e dalla Amblin. Purtroppo essendo uscito ad agosto all'Elba, film di questo tipo non arrivano, però vi esorto a recuperarlo. Tutto il cast riesce a convincere, anche Liam Cunningham nei panni del capitano Elliot, che è lì con Toby, con il nipote, ed effettivamente anche quel personaggio sarà importante ai fini della trama, ed è interessante come vengono messe in scena anche le uccisioni dei vampiri, che piano piano su questa nave mercantile iniziano a mostrarsi, perché Dracula vampirizza le persone presenti e sarà una bella sfida. Una sfida fra bene e male, che viene ben raccontata con una buona mano, con una buona messa in scena, con una buona tecnica, con delle ottime interpretazioni, con una buona colonna sonora, e quindi Demeter, il risveglio di Dracula su Prime Video da vedere. Parlandovi con spoiler di questo film, Beh, innanzitutto ciò che mi ha convinto è il non abusare della figura di Dracula, che nel film è presente, ma che viene mostrata nei giusti momenti, quando si risveglia nella notte, quando uccide, perché André Ovredal vuole giocare molto con la presenza, con la presenza che anche quando non si vede, percepisci che è pericolosa, che comunque è sempre intorno a te. Non è una cosa facile da fare, far capire, far presagire al pubblico che qualcosa non va, anche senza mostrare il protagonista di questa vicenda disastrosa e terribile. Sono belle le sequenze in cui lui si mostra nell'oscurità, con questo effetto prostetico e questi denti aguzzi, questo viso completamente grigio, questo mostro che purtroppo non vediamo nel suo massimo splendore, perché ci basiamo, anche parlando del romanzo, in un preciso momento in cui Dracula deve ritrovare le sue forze, succhiando il sangue alle future vittime, per riabilitarsi, per avere quella forza che poi gli permetterà successivamente di prendere qualsiasi sembianza lui preferisca. Quindi tutto è svolto su questa nave, le scene in cui vediamo la tempesta in arrivo, il mare tormentato da queste onde, e nel frattempo tu non vedi quel che sta accadendo, ma percepisci che c'è il male, ma percepisci che c'è qualcosa che non va. Piano piano i membri dell'equipaggio che vengono uccisi, anche in maniera barbara, in maniera selvaggia, è un film che sa essere esplicito, violento, duro, però a differenza di qualsiasi altro regista che con la scusa cavolo sto facendo un film su Dracula, lo metto dappertutto, anche nel Caffè e Latte la mattina, no. Qua Andreo Vredal si basa anche su un gruppo di personaggi molto ben amalgamato, con caratteri differenti, con modi di fare opposti, pensiamo anche semplicemente al nostro dottor Clemens che solo per il colore della pelle ha più volte subito attacchi di razzismo, discriminazioni, lui è un medico facoltoso, non può lavorare nonostante la sua laurea perché è nero e poi pensiamo anche ad Anna, interpretata da Hasling Franciosi, che è un'attrice irlandese che viene ritrovata nella stiva malmessa e che verrà fortunatamente curata fino ad arrivare a questo finale in cui purtroppo è stata anche lei vampirizzata e quindi decide di prendere fuoco, di morire per non vivere quella vita. Ed effettivamente, se ci pensiamo, anche le scene in cui i vampiri prendono fuoco, che sia il membro dell'equipaggio di turno, che sia il bambino, Toby, sono scene forti. La scena in cui Toby guarda, anzi suo nonno Elliot, guarda Toby negli occhi perché ha la convinzione che si è mosso ed in realtà apre gli occhi, è un vampiro, ma prende fuoco con il chiarore del sole, un fuoco che divampa addosso anche al nonno e lo dovranno gettare e lo dovranno gettare nelle acque gelide. Cioè ci sono momenti, ci sono sequenze molto ben realizzate che ci fanno presagire la paura costante che qualcosa possa succedere e anche il finale quando si cerca di intrappolare Dracula ma le cose non vanno come previsto, il piano è da rivedere, però si riesce a scappare. Il dottor Clemens dopo la morte di Anna che continua a dare la caccia al nostro vampiro e indipendentemente dal romanzo, anche se noi già sappiamo come finirà, il cinema è un'altra cosa, quindi a me piacerebbe da morire se Andreo Vredal dirigesse un seguito. Vedere questa continuazione della lotta fra bene e male, fra il dottor Clemens, magari altri personaggi ed un vampiro che sempre più è in forza e che sempre più si... si trasforma in essere umano, che sempre più si trasforma in qualsiasi cosa voglia essere. Mi piacerebbe, perché se Andreo Vredal avesse fatto anche, che ne so, cinque film in cui raccontare tutto il Dracula di Bram Stoker, io avrei apprezzato il lavoro. Qua si è soffermato sul settimo capitolo e ci ha comunque intrigato, ha saputo appassionarci con un film da due ore. Immaginatevi se raccontasse tutta la storia di Dracula, il Dracula di Vredal. Ogni film, dalla durata, similare, che si sofferma sui capitoli più salienti del capolavoro di Stoker. Io lo vedrei subito. Poi può essere fedele, può andare oltre alla fedeltà e raccontare cose che nel libro non ci sono. Io di battaglie fra Clemens e Dracula ne vedrei altri molto volentieri. Ma nel cast abbiamo anche David Destmalchen che più volte anche voi avete potuto vedere nei film di Nolan. È un attore che mi è sempre piaciuto con quel viso particolare e anche qua il suo ruolo. Lui è uno dei membri più importanti dell'equipaggio, nonché quello a cui verrà promesso l'incarico di Capitano dopo quest'ultima traversata di Elliot. Quindi ragazzi, questo è il mio parere al riguardo. Dracula è interpretato da Javier Botet e è proprio nelle sembianze, nelle espressioni, nella recitazione molto bravo a incarnare la figura di uno dei mostri più famosi di sempre che mai morirà. Quindi un buonissimo film, l'horror che abbraccia l'avventura, che abbraccia anche scene più esplicite e sanguinolente ma senza ricorrere a paure effimere, senza ricorrere a effettacci posticci digitali. Molto bello, ripeto, anche l'epilogo. Il prologo e l'epilogo sono i momenti migliori per quel che mi riguarda con Dracula che passa vicino al dottor Clemens e Clemens che sta continuando a scrivere il resoconto di quel che accade che è pronto a dargli la caccia in questo vicolo di Whitby offuscato dalla nebbia della penombra che quasi ricorda uno dei vicoli dove può uccidere Jack lo squartatore lì nelle stesse strade. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nella sezione commenti ma mi ha fatto piacere recuperare The Matter e salvarlo perché ho letto delle critiche che secondo me non sono giuste nei confronti di un buonissimo film come quello che ho visto purtroppo su Prime. Ciao e abbonatevi al canale. Alla prossima!